Presidente Recchiuti, palestra che genera ancora polemiche, ma qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che già da questa mattina alcune classi cominceranno a frequentarla e quindi a viverla e questo è un motivo di grande orgoglio, soddisfazione perché era un'opera molto attesa da parte di tutta la città e in particolare da parte della comunità scolastica di Colonia Spiaggia, che conta circa 600 alunni. Le associazioni sportive che potranno utilizzare sin da subito la stessa struttura o a livello burocratico ci sono dei tempi diversi? No, non ci saranno tempi diversi, soltanto i tempi tecnici di predisposizione dell'orario, del calendario di utilizzo della struttura che è a cura dell'ufficio sport del nostro comune. È stato necessario attendere qualche giorno per il completamento dell'iter burocratico che ha portato la consegna della struttura alla scuola, al primo circolo di Roseto, ma assolutamente voglio ribadire ancora che la struttura era agibile, collaudata, funzionante, quindi con tutti gli allacci necessari fin dal taglio del nastro famigerato. Quello che abbiamo fatto notare è che continueremo a far notare che non sono cinque giorni quelli che sono intercorsi tra la fine dei lavori e l'inaugurazione della palestra e la possibilità di fruire della palestra, ma sono più di ottante, infatti la fine dei lavori documentale è a dicembre del 2023. Se poi a questo si aggiungono, si sommano quelle che sono le date di annuncite da parte dell'amministrazione, della riconsegna della palestra si fa addirittura ad un anno fa. Quindi da parte dei cittadini, dei giornalisti e di tutta l'opposizione e della politica rosetana c'è il diritto a poter criticare un'amministrazione che si è dimostrata più volte fallace.